Tutto quello che è italiano deve essere giocato sulla qualità, non lo possiamo permetterci di giocarlo direzzamente. Tutto quello che riguarda noi può essere fatto, sostenuto, proposto perché è di qualità. Soltanto quel tipo di produzione ci può dare la possibilità di essere non solo forti, ma di giocati, di poterlo. E la cosa incredibile che sta avvenendo è che questo riguarda la piccola, la media, la grande impresa, l'impresa artigianale, a virtù dei servizi. Allora io credo che questo Paese debba mettersi nell'ottica che tutto quello che riguarda noi può essere giocato in questo modo.